Andrea Martucci Revisore Prima volta che vengo a Spoleto nella mia vita, anche in questo teatro, anche al TED, la prima volta. Eppure io conosco ognuno di voi. Lo conosco, perché chi sono, cosa faccio e la storia che porto dietro di me è in ogni vostra casa, è nel tuo posto di lavoro, è quando cammini per la strada, ma in questo momento è anche in tutte le vostre tasche. Probabilmente può preoccupare un ragionamento di questo tipo come esordio fatto da un omone in uniforme, fra l'altro anche nera, quindi può essere preoccupante, ma nella realtà, per tranquillizzare tutti, il mio mestiere è il ricercatore e la mia materia è la realtà immersiva e la bioinformatica. E per fare questo lavoro io, come tutti quanti, ho un tavolo, mi appoggio su quale lavoro, e questo tavolo l'ho preso molti anni fa in un piccolo paesino piemontese che si chiamava Scarmagno, che è il paese dove il mondo di oggi è stato inventato. È il paese dove è nata la Olivetti. E su quel tavolo sono passate le più grandi invenzioni che ci permettono oggi di vivere in un mondo, chiamiamolo così, digitale. Perché nel 1965 Giorgio Perotto, su quel tavolo, inventa il primo computer, avvita le prime viti del primo computer. Qualche anno dopo, un altro nostro collega che mi ha preceduto su questo tavolo, Giorgio Coralupi, scrive l'algoritmo delle videochiamate. Non lo sapevate che era italiano? E nel 1994, un altro italiano, scrive la base dei sistemi XPL-VRO. Si chiamava Giovanni Nicolini, era mio padre. Oggi lo chiamate metaverso, quella tecnologia. E anche questo non pensavate che era italiano. E ancora, la stampante a getto d'inchiostro, sempre su questo tavolo, i nostri colleghi di Aosta. E io da giovane ricercatore ho partecipato alla realizzazione del primo telefono touchscreen della storia. Navigava in internet, mandava le email, telefonava, facevi le videochiamate e mandava gli MMS, che erano una grande novità in quel tempo. Era il 2001, 23 anni fa e 23 chili fa. Però funzionava. Qualcuno ha cominciato a sentire la parola touchscreen nel 2007, perché qualcun altro ha raccontato questa storia. Ma l'archeologia informatica scrive sulla pietra le sue realtà. E questa è storia. E nessuno la potrà mai cambiare. E poi viene il mio turno. Sempre, finalmente, questo tavolo ce l'ho solo io. E nel 2022 scrivo il protocollo dell'HBA, lo Human Biometric Avatar. L'identificativo univoco che a tutti quanti voi permetterà dal 2030 in avanti di avere accesso alle reti di nuova generazione. Insomma, è un bel lavoro quello che io faccio. È tranquillo, siamo in un laboratorio. C'è tranquillità, abbiamo caffè a volontà, abbiamo parcheggio. Abbiamo la possibilità di avere dei colleghi simpatici. Se è fortunato, la giornata vola via, che è una meraviglia. E quindi lavoriamo serenamente tutto il giorno. Però un giorno Alberto non viene al lavoro. Io sono lombardo, Alberto del Lazio. Ci può stare che non venga al lavoro. Ma anche il giorno dopo non viene al lavoro. E per di più non risponde neanche al telefono. Passano cinque giorni e Alberto non viene al lavoro e non risponde al telefono. La figlia di Alberto in ospedale. In coma, in rianimazione. È stata violentata e brutalizzata mentre tornava a casa una sera. Alberto non esce di casa, non ha il coraggio neanche di varcare quella soglia. È paralizzato. Come succede sempre, buoni colleghi, prendiamo la macchina e andiamo a trovare Alberto. Alberto mi guardava ma non mi vedeva. Mi ascoltava ma non mi sentiva. Fissava un punto nello spazio che nella realtà non ho mai riuscito a capire dove stasse veramente. Non esisteva il punto che lui fissava. Ce ne torniamo in laboratorio, ricominciamo le nostre giornate. Dopo qualche giorno una telefonata ci dice che Alberto è stato trovato morto a casa sua. Si è suicidato, non ce l'ha fatta sopportare il dolore. E ha lasciato un biglietto sulla credenza di quel soggiorno dove pochi giorni prima avevamo bevuto un caffè assieme. Perdonami per non averti saputo proteggere, papà. E io sono seduto nel nostro tavolo con i miei colleghi, nove tra le menti più brillanti del pianeta e nessuno parla, nessuno dice niente. Gente che con la mano destra sposta un satellite, con la sinistra mescola il caffè contemporaneamente. Non sappiamo dire niente. Nessuno. Dobbiamo reagire, dobbiamo fare qualche cosa. Non siamo giustizieri della notte. Ma qualcosa dobbiamo fare. Abbiamo una sola capacità, quella di creare. E allora cominciamo a cercare tra le vecchie cose che abbiamo fatto, quegli appunti che fai su quei block notice che poi butti e che trovi in solaio, sugli appunti che fai al fazzolettino della mensa e che ti trovi nei pantaloni quando poi li vai a lavare. Tiriamo fuori tutto quello che si può cercare di fare per trovare un modo, non per far tornare Alberto, non per cancellare quello che era successo, ma perché questo non dovesse più accadere. E ci riusciamo. Un anno fa, a marzo dell'anno scorso, presentiamo un dispositivo. OPM BLGM1 si chiama. Una cupola digitale all'interno di un piccolo circuito miniaturizzato che permette di identificare tramite l'avatar biometrico lo stato psicofisico di chi lo porta, ma soprattutto ciò che accade intorno a lui in questi 15 metri e avvisare se c'è qualche persona che ha un comportamento anomalo. Grande successo, grandi applausi, ma mancava qualcosa ancora all'interno di questo dispositivo. Non era perfetto, c'era qualcosa che mancava. E allora pensa, studia, fai, ragiona, confrontati, chiama colleghi in tutto il mondo. e alla fine lo troviamo in una cosa che avevamo davanti agli occhi tutti i giorni da quando siamo nati. Abbiamo fatto la cosa più semplice del mondo, abbiamo scoperto il componente segreto di questo dispositivo e abbiamo preso ognuno di voi e l'abbiamo messo dentro questo dispositivo. Il componente segreto del dispositivo è la comunità. perché quando questa persona viene avvicinata da qualcuno che è malintenzionato può darsi che qualcuno si giri dall'altra parte. Ho i miei problemi, ho il mutuo da pagare, ho mille cose da pensare, non mi interessa, sarà un problema suo. Poi magari non ha poco di buono. Ma la comunità, la comunità di nostri italiani, connazionali, di tutta la gente che vive in questo paese non si gira dall'altra parte. voi non vi girate dall'altra parte. E quindi quando vi arriva sul telefono un pop-up che vi dice aiuto, sono in questa posizione, sono in pericolo, ascolta cosa sta accadendo, ne basta uno di voi e poi sono molti di più che alza il telefono e chiama le forze dell'ordine o magari interviene perché è vicino al posto. e quando questo dispositivo sarà diffuso ci sarà la possibilità che il solo fatto che esista sia un deterrente per chi vuole far male alle persone. e noi abbiamo scelto questa strada e abbiamo detto che è un dispositivo nato grazie alla comunità e per la comunità e quindi la comunità lo deve avere senza spendere un centesimo. se un paese come il nostro con la P maiuscola vuole bene ai suoi cittadini deve garantire la sua sicurezza ma non privandoci della libertà, dandoci degli strumenti per far sì che la libertà la possiamo vivere nel migliore dei modi. e se vi girate dietro in questo momento se vi girate, giratevi dietro di voi, tutti, tutti quanti dietro di voi, fuori da quella porta, c'è il futuro e il fatto che voi siete seduti qua davanti vuol dire che avete deciso di proteggerlo col vostro corpo. e quando finiremo questo convegno oggi uscite nelle strade di Spoleto andate dalle persone, anche quelle che non conoscete a chi amate, a chi volete bene guardatelo negli occhi e ditegli io farò di tutto per difendere il tuo futuro e quindi gli eroi di questa giornata non siamo noi ma siete voi e l'applauso io lo voglio fare a voi. grazie